Splende il sole sulle strade di Monfalcone in provincia di Gorizia dove torna dopo un anno di stop a causa della pandemia da Covid-19 la Coppa Montes numero 66 messa in cantiere dal gruppo sportivo Ampi Provinciale presieduto da Massimo Masat. Si corre al termine di una settimana difficilissima e tragica per tutto il ciclismo nazionale infatti corridori al via con il lutto al braccio in ricordo di Silvia Piccini la 17enne tragicamente scomparsa durante un allenamento mentre però il gruppo affronta il trasferimento verso il chilometro zero andiamo ad ascoltare le premesse che hanno aperto la splendida giornata di sport di Monfalcone. Stefano Bandolin presidente del comitato regionale Friuli Venezia Giulia per la federazione ciclistica italiana 25 aprile in Friuli vuol dire Coppa Montes. Sicuramente oggi si svolge la 66esima Coppa Montes in un finale di settimana che è stata col gruppo in gola per tutti noi del movimento ciclistico friulano e non solo. I ragazzi sono molto bravi ieri c'è stata la dimostrazione in quel di Caneva durante la manifestazione di cross country. I ragazzi sono veramente molto sensibili e anche noi grandi ho chiesto a tutti di onorare al meglio la povera Silvia che comunque sarà sempre nei nostri cuori da qui in avanti. Siamo con Cristian Murro tecnico regionale del Friuli Venezia Giulia una settimana che ha messo a dura prova tutto il movimento ciclistico friulano. Sì sicuramente non è una settimana facile per noi che siamo vicini tanto vicini a questa bruttissima situazione voglio dare un ricordo di Silvia è una situazione siamo ancora tutti molto colpiti quindi poche parole poche parole. Il vostro lavoro però deve continuare da tecnico come stai vedendo i ragazzi friulani e quali sono i prossimi programmi? Oggi siamo qui alla Coppa Montes che è una delle manifestazioni più importanti del panorama ciclistico friulano la partecipazione di livello quest'anno la gara è nazionale quindi abbiamo qua i migliori atleti a livello nazionale. Stiamo aspettando ancora diversi corridori abbiamo già visto cose molto buone oggi vediamo cosa saranno in grado di fare. E poi impossibile non chiederti un aggiornamento sul giro del Friuli Venezia Giulia per Elite Under 23 si correrà a fine stagione ma cosa bolle in pentola? Sì la macchina organizzativa della Libertas Ceresetto per quanto riguarda il giro della regione Friuli Venezia Giulia Under 23 è già in moto ci stiamo muovendo sicuramente questa pandemia ci mette in difficoltà e rende tutto un po' più difficile sicuramente sarà un'edizione comunque spettacolare. Sventolano le bandiere tricolori dell'Ampi al chilometro zero e prende quindi il via la 66esima edizione della Coppa Montes 171 gli atleti in gara in rappresentanza di tutte le migliori formazioni italiane con la presenza anche di alcuni team stranieri. 109 i chilometri da compiere per questa grande classica friulana che non poteva mancare nel giorno del 25 aprile così come non poteva mancare il passaggio al Sacrario di Re di Puglia. Un ricordo una celebrazione in onore della patria della nostra nazione italiana ovviamente Sacrario di Re di Puglia che si riferisce alla prima guerra mondiale. La Coppa Montes invece vuole ricordare soprattutto il partigiano Silvio Marcuzzi detto Montes a cui proprio va è stata intitolata la corsa lui che fu medaglia d'oro al valore militare per aver svolto un ruolo fondamentale nel vettovagliamento e nel supporto delle formazioni partigiane operanti nel Triveneto. Una figura storica da ricordare e da celebrare così come sono da ricordare e da celebrare i valori che accompagnano questa manifestazione. Valori di libertà e di fratellanza che mai come in questo periodo caratterizzato dalla pandemia risultano essere attuali e soprattutto fondamentali per tornare a vivere insieme. Direzione corsa affidata a Francesco Seriani, Mauro defende Glauco Masolino, primi chilometri di gara che come vedete dalle nostre immagini trascorrono con il gruppo compatto. Velocità molto elevata in testa al plotone mentre si fatica ad evadere. Quindi si procede con un gruppo compatto per i primi 60 chilometri lungo i quali sono disseminati ben 11 traguardi volanti merito dei vari circoli dell'Ampi locali che hanno aderito all'invito presentato dal presidente Massimo Masat. Si inizia a salire al chilometro 60 verso la salita di Bucuie ma anche qui la situazione vede un gruppo pressoché compatto che va a sfaldarsi invece nelle ultime posizioni del plotone. Quindi una selezione da dietro in questa prima salita piuttosto pedalabile che viene affrontata ad alta velocità dai corridori. Pensate che alla termine della corsa si sfioreranno addirittura i 42 chilometri orari di media per una corsa che invece presenta un percorso decisamente esigente. Gruppo compatto anche alla termine della discesa quando siamo al passaggio a piedi monte vedete un gruppo ormai composto da poco più di 100 atleti. Gli altri hanno perso contatto lungo le rampe della prima salita di giornata e si va invece ad affrontare quella che è l'asperità più impegnativa della Coppa Montes 2021. Vale a dire la salita di Monte San Michele. Due chilometri e mezzo dove le pendenze si fanno impegnative e qui vedete le maggiori squadre a prendere le posizioni migliori proprio per andare a imboccare la salita. Quella che dovrebbe essere decisiva ma attenzione perché come avete visto intorno alla trentesima posizione avviene una brutta caduta che coinvolge una buona parte del gruppo e quindi si stacca un drappello di una quarantina di unità. Team Danieli a guidare le operazioni sulla sua ruota anche i ragazzi della Borgomolino Rinascita Ormelle ed è così che con questi 40 atleti al comando si affronta la salita di Monte San Michele. Una salita come dicevamo molto impegnativa destinata a fare la differenza per gli atleti che sono rimasti in gara. Fortunatamente nelle caduta che abbiamo visto nessuna grave conseguenza se no il fatto che tanti atleti hanno dovuto rinunciare alle proprie ambizioni di vittoria. Quando siamo ormai in vista del secondo Gran Premio della Montagna di giornata quello appunto di Monte San Michele prende il largo Federico Savino dorsale 162 maglia della Work Service Speedy Bike su cui si riportano Pietro Mattio della Vigor Cycling Team e Alessandro Pinarello della Borgomolino Rinascita Ormelle. Ed è proprio Pinarello che va a sprintare per il Gran Premio della Montagna e che va a precedere Pietro Mattio. Terza posizione per Federico Savino che rientrerà a breve ma questa è l'azione più interessante di giornata. Infatti sui primi tre da lì a poco rientra anche il dorsale numero 8. Si tratta di Andrea Bettarello quindi il dorsale 65 del team Giorgi Diego Ressi. Si va a comporre così un quintetto decisamente interessante che procede di comune accordo e che andrà ad imboccare la salita di San Martino del Casso. Infatti si transita nel sottopasso della ferrovia curva sinistra curva destra e la strada torna a salire. Questi cinque battistrada vantano un vantaggio di 25 secondi sui più immediati inseguitori ma è tutto un formarsi di drappelli. Infatti corsa molto frastagliata con la testa formata da questo quintetto che viaggia di comune accordo con un ritmo molto molto interessante. A questo punto mancano al traguardo una trentina di chilometri dunque manca ancora molto per questi cinque atleti che vedete si guardano in faccia e decidono che è arrivato il momento di proseguire insieme di comune accordo verso il traguardo. Giornata calda quella nella quale si corre la 66esima edizione della Coppa Montes e quindi rifornimenti importanti anzi importantissimi. Vedete il recupero di Fabio Camerin direttore sportivo della Work Service Speedy Bike che va ad assistere il proprio corridore. Ricordiamo Federico Savino che aveva perso una bustina di zuccheri e dunque va a dargli supporto non solo fisico ma anche mentale. Siamo ormai verso il terzo ed ultimo Gran Premio di Montagna della giornata. Siamo in vista dello scollinamento a San Martino del Carso ed è ancora Alessandro Pinarello che va ad aggiudicarsi il passaggio con il quintetto che rimane presso che compatto. Ad attendere i corridori c'è un lungo falso piano quindi si andrà a scendere e poi ancora degli strappetti molto interessanti che condurranno la corsa sin verso il traguardo finale di Monfalcone. Ricordiamo posto dopo 109 km di gara. 5 corridori al comando, 2 maglie della Borgomolino-Rinascita-Armelle. Borgomolino che punta a ripetere il successo conquistato nel 2019 in quella che è stata l'ultima edizione della Coppa Montes disputata. Il successo che era stato appunto di Simone Raccani della Borgomolino-Rinascita-Armelle. L'anno prima, giusto per confermare che l'Albodoro è decisamente interessante, quello della Coppa Montes ad aggiudicarsi questa classica. Era stato Jonathan Milan, oggi professionista con la Bahrain-Victorious. Rientrano altri due corridori nell'azione di testa e sono due atleti di primissimo piano. Infatti si tratta di Alberto Bruttomesso della Borgomolino-Rinascita-Armelle che sfrutta il treno di uno dei più attesi della vigilia. Si tratta della piemontese Manuel Oiolli della UC Bustese-Olonia. Questi sette corridori dunque vanno nuovamente ad affrontare una delle ultime salite di giornata. E vedete, sono sempre le maglie della Borgomolino-Rinascita-Armelle a dettare il ritmo in salita. Ormai i ragazzi diretti da Cristian Pavanello e Carlo Merenti devono fare la corsa. Nei sette al comando infatti ci sono ben tre maglie della Borgomolino-Rinascita-Armelle. La formazione tra Veneto e Friuli che sta dominando questo inizio di stagione e che adesso può festeggiare. Vedete, quando siamo ormai a 15 km dal traguardo, l'arrivo di un quarto porta colori. Si tratta di Matteo Scalco che raggiunge i battistrada in compagnia del polacco Mikhail Pomoski della Vassi Club Kolaski. Dunque, nove corridori al comando quando siamo ormai a 10 km dal termine. Questi nove battistrada viaggiano con 30 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori, un drappello di una quindicina di unità che però non riuscirà a raggiungere la scia di questi battistrada. Ricordiamo superiorità numerica della Borgomolino-Rinascita-Armelle ma grande attenzione anche agli altri componenti della fuga. Infatti, oltre a Federico Savino, bisogna fare attenzione a Pietro Mattio, a quella Manuela Oioli che è dotato di un ottimo spunto veloce e anche di Diego Pressi della Team Giorgi che in questo avvio di stagione è stato rallentato anche dal Covid-19 ma che ora sembra essere tornato davvero brillante. Siamo ormai negli ultimi 4.000 metri e vedete che si rompe l'accordo in testa alla corsa. Il primo ad allungare è Manuel Oioli e sulla sua ruota è bravo a portarsi Matteo Scalco della Borgomolino-Rinascita-Armelle. Ricordiamo i ragazzi in maglia nero-verde che avranno il compito di far sì che questa azione giunga in porto e soprattutto di finalizzare la propria superiorità numerica. Si mantiene in ultima posizione invece Diego Pressi, controlla la situazione davanti a lui il polacco Pomorski un atleta tutto da scoprire che andremo a vedere nel finale di questa Coppa Montes come saprà comportarsi. Nuovi scatti in testa alla corsa, ormai è bagarre, è lotta aperta tra questi atleti quando siamo negli ultimi 3 chilometri e arriva un altro allungo interessantissimo. Questa volta è una maglia della Borgomolino-Rinascita-Armelle a mettere tutti in fila. Si tratta della dorsale numero 11 Alessandro Pinarello, già vincitore in questo 2021 sul circuito delle Conche, la prima gara stagionale, vedete guadagna subito 200 metri di vantaggio Alessandro Pinarello, maglia della Borgomolino-Rinascita-Armelle. Il suo passo potrebbe essere vincente, siamo ormai negli ultimi 2 chilometri, ormai in vista il cartello degli ultimi 2 chilometri per Alessandro Pinarello che si volta, controlla, capisce di essere solo, capisce che la sua azione potrebbe essere ancora una volta vincente. La stessa azione da Finisseur che aveva tentato e che gli era riuscita nella prima gara stagionale al giro delle Conche, 2 chilometri all'arrivo per lui, 5 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori, ma alle sue spalle si organizzano gli avversari ed è Federico Savino che va a ricucire lo strappo e quindi 9 uomini insieme si presentano sulla retta d'arrivo di Monfalcone. A partire lunghissimo è Diego Ressi del Team Giorgi che viene saltato da Alberto Bruttomesso della Borgomolino Rinascita Ormelle che va così a cogliere il suo primo successo stagionale, seconda posizione per Diego Ressi del Team Giorgi, quindi il polacco Michael Pomorski, segue Pietro Mattia, Federico Savino, Manuel Oioli, Andrea Bettarello, Alessandro Pinarello, Matteo Scalco, mentre la volata per il decimo posto se la giudica Daniel Scherl della UC Pordenone. Damo un falcone per la 66esima Coppa Monte, se è tutto non resta che lasciare i microfoni ai protagonisti di giornata. Alberto Bruttomesso, volata d'autorità qui a Monfalcone per la Coppa Montes, hai messo a frutto la superiorità numerica della Borgomolino. Sì, è stata una gara combattuta perché sul GPM di San Michele, quello il secondo, sono andati via 4-5 corridori con due miei compagni di squadra, in discesa ho provato ad andare via in solitaria, ho raggiunto un ragazzo sloveno che nel tratto che portava l'ultimo GPM si è andati via a cambi regolari, poi sull'ultima salita mi ha raggiunto Oioli e io e lui siamo riusciti a rientrare sui 5 al comando appena finita la discesa dell'ultimo GPM, poi siamo andati via abbastanza d'accordo, di comune accordo in doppia fila, dopo qui gli ultimi 4 chilometri sono un po' saltato l'accordo diciamo e ci sono stati vari attacchi anche da parte di miei compagni di squadra, poi ci siamo trovati all'ultimo chilometro circa e Andrea Bettarello, mio compagno di squadra si è messo a fare ritmo davanti, poi gli mancavano circa 350 metri e è arrivato da dietro Diego Ressi delle Giorgi, ho cercato di accodarmi e appena l'ho raggiunto dal suo rato sono uscito e sono riuscito a vincere, niente sono contentissimo. Una dedica per questa vittoria? Tutta la famiglia, alla squadra, i sponsor che permette di fare le gare e niente. E' un pensiero a Silvia Piccini? Sì è un dispiacere, la sua morte e niente faccio le condoglianze alla famiglia. Massimo Masatta, capo dell'organizzazione della Coppa Montes, un'edizione 2021 che vi premia con un altro grande successo organizzativo. Sì, diciamo che è andata bene, mi sembra che la corsa abbia avuto un grande riscontro, dal punto di vista sportivo i ragazzi hanno fatto un bel lavoro e noi li abbiamo messi in condizione di farlo al meglio, con un'organizzazione che sono veramente felice e ha funzionato per bene. Si correva anche nel ricordo di Silvia Piccini in una settimana difficilissima per il ciclismo friulano. La Coppa Montes, anche in questo, vuole segnare un punto di ripartenza, un punto di speranza. Non si può non parlare di Silvia, ve lo dico perché io l'ho conosciuta da quando era G2. Queste cose fa male perché il ciclismo sostanzialmente fa anche i conti con queste tragedie. Ho una ragazza che ha sempre avuto una passione estrema e che in qualche maniera ci ha lasciato così, fa tantissimo male noi e ancora di più i familiari. Noi abbiamo corso in sua memoria, la memoria è una cosa che fa male e che è dolorosa. Abbiamo cercato di dare un segnale anche di ripresa. Vorremmo essere più vicini anche alla famiglia e Silvia per dire la verità. Dopo questa edizione del 2021 bisogna guardare avanti. 2022 è già dietro l'angolo, cosa ci sarà? Un percorso da confermare innanzitutto? Spettacolare e selettivo al punto giusto? Il percorso è da confermare. Noi faremo il possibile per farla ancora più bella. Adesso però è bene riposare un pochino perché è stato veramente faticoso fare tutto questo lavoro che abbiamo fatto. Siamo con Alessio Puntelli, rappresentanza dell'amministrazione comunale di Monfalcone, consigliere comunale. La Coppa Montes riporta la tradizione del 25 aprile, i festeggiamenti e soprattutto vuole dare un segnale di ripartenza in un 2021 che deve per forza essere positivo. Grazie, è un segno di ripartenza. Il comune di Fogliano di Redi Puglia ha donato la Coppa per questo suo impegno per lo sport, per Coppa Montes. È un segno di ripartenza per le sfide che verranno quest'anno e i prossimi. Ci auguriamo che una giornata di sport come è stata quella di oggi sia di buon auspicio per tutti noi.